Che sia mare, che sia vento lieve orizzonte, che sia braccia pronte per questa fatica, che l'onda sia mica in un ritmo veloce, che sia mare, che la voga sia rapida e piena, che i fianchi e la schiena siano come una fionda e il remo che affonda sia un'unica voce. Che sia mare, questo remo sia leve sia frusta ed infine sia terra sia festa ed il premio sia vino e sia gente sia baciare quest'armo pesante ed il premio sia soddisfazione sia un sorriso sia qualche canzone sia dipinto sui volti scontenti di avversari reali e perdenti. Che sia mare, che sia golfo sia pari e borgato, che sia tempo d'estate di un torrido agosto di acciuga, di pesto, di gambe abbronzate. Che sia mare, che sia mare, che sia mare, lo sforzo assomiglia al dolore, che io sia il migliore per questo coraggio, per questo equipaggio che grida una voce. Ed eccoci sotto al banco, al podio della tribuna centrale. dove ci sono esposti i pagli del golfo, dove ecco il paglio femminile che è del CRDD momentaneamente, il paglio del vero, il paglio del golfo che è detenuto dal Mugiano e il paglio del golfo del Junior che è detenuto dal Cadimare. Chissà se riusciranno a riconfermare la ripresa di questi standardi. Comunque, ardua sentenza alla gara che verrà fatta fra poco e vedremo così in diretta quello che accadrà. ...che insieme a noi sta guardando e godendo così di questa giornata particolare. Cosa ne pensi di questo entusiasmo salito così nel Golfo delle Grazie? Beh, è un entusiasmo che si spiega anche perché il grande favorito era il Canaletto, pertanto averlo battuto ha fatto aumentare ancora l'entusiasmo dei supporter, oltre che ovviamente degli equipaggi che sono stati veramente bravissimi. Del resto erano arrivati i secondi in parecchie gare del campionato e anche nel campionato provinciale Le Grazie era la seconda classificata. Merita sicuramente il successo, peccato per il Canaletto ma non si può avere sempre tutto. Sicuramente il Canaletto gli sarà passato un po' l'entusiasmo, adesso c'è una prossima gara, infeggerà su di loro questa sconfitta, sì o no? Io dico di sì anche perché mi sembra di ripercorrere una strada che ho sentito ieri al Fezzano. Dicono se vanno giù di morale con gli Uniones che non avendo fatto l'ultima gara al Mugiano si possono trovare in difficoltà, ci sarà il pericolo di un crollo di Lavalle. Questa è la speranza del Fezzano, logicamente. Io da sportivo non lo auguro certo a nessuno, poi non essendo Borgataro sono perfettamente neutrale. Grazie Caiti, allora alla prossima, grande altra avventura. Ok. Grazie Caiti, però voglio sentire anche Maniscalco. Maniscalco che è stato un grande vogatore del Marola, ha già vinto Pagli e oggi questa preparazione è un po' di supporto anche alle grazie, il tuo contributo, un aiuto c'è stato, perciò qualcosa di nuovo si è visto anche in quella borgata. Sono contento che ha vinto le grazie perché il 60% di questo equipaggio qua in pratica l'ho tirato su io nel 2007. Poi per i miei problemi non ho potuto seguirlo, però ho visto che hanno fatto una bella gara, sono partiti decisi, erano convinti anche in terra, sono andato a salutarli prima di partire. Li ho visti molto decisi, preparati bene perché Pierino che è il loro allenatore di quest'anno è stato un bravo preparatore, ha seguito un po' tanti dei miei consigli e che è una persona bravissima. Questo è il mio erede. Sono contento, bene anche i secondi, però le grazie aveva una marcia in più che secondo me è stato un frutto di una buona preparazione. Poi le gare sono sempre un contorno al palio del golfo, il palio è sempre stata una gara che è sempre stata particolare, a sé ognuno deve tirar fuori quello che poi alla fine ha dentro, non serve la condizione fisica, ma quanto la condizione morale è di testa. Secondo te il morale sale, scende in questi momenti oppure si fa più grintoso? Infatti è questo che cercavo di dire. Ci sono tanti atleti che in alcune situazioni riescono a esprimere di più e tanti che riescono a esprimere di meno. Nel golfo ce n'è parecchi che hanno voglato anche con me e posso dire che a volte queste situazioni possono creare delle spiacevole inconvenienze. Mi auguro che non succeda a chi ha dato tutto quest'anno, però fa parte del palio e quindi devono avere paura tutti. Grazie Maniscalco, allora non diciamo nient'altro, ci vediamo alla fine se c'è un'occasione di ridare un contributo della tua persona. Grazie, a dopo. Grazie, ciao. Lasciamo così Maniscalco e tanto abbiamo vissuto veramente un momento febbrile anche in mezzo ai simpatizzanti e ai graziotti. Continuiamo a vivere momenti febbrile del palio e vediamo la passeggiata nella banchina piena di simpatizzanti e di persone che sta dietro alle bandiere per acclamare la propria borgata e effettivamente sono molti e fra un po' avremo l'ultima gara in programma che è il palio vero e proprio, il palio che mette a competizione i più valorosi rematori del golfo. Questa sarà una dura competizione e qui ne vedremo delle belle, una crescita non indifferente che potremo vedere fra poco. Vediamo tutta l'altra parte della banchina strapiena di simpatizzanti, tutti i borgatari del Canaletto, Fezzano, Mugiano, Lerici, Tellaro sono tutti e più, segue andando verso gli scogli. Vediamo che non si può stare per il poco spazio, poca imbarcazione nella parte bassa. Invece nella parte alta si riapre la corona delle imbarcazioni e si vede così il teatro completo di questa grande giornata di sport. Qui c'è la grande acclamazione per la barca del Canaletto che sta transitando sotto di noi. Vediamo che intanto le imbarcazioni sono già dietro alla Venera Scurra è una barca celeste, ha il numero 7, è quella del Costa Mastra. L'equipaggio è formato da Alessandro Fornoni, Alessandro Colani, Cesare Oduini, Jacopo Dani, Altimone Rebecca Orlandi, Alessandro Fornoni, Alfredo Tassi, Lo Bianco Mirco Lugano e Mauro Dini, Altimone Francesca Di Santo. Parca numero 6 del Canaletto, formato l'equipaggio da Daniele Scanteri, Alfonso Conte, Paolo Lavalle, Marco Spurlete, Altimone Davide Spano. E dietro la varia di finitura rosso-blu, l'equipaggio è quello che ha vinto il padio lo scorso anno, Gabriele Vattoni, Davide Findaro, Fabio Scantamburro e Paolo Lapozzo, Altimone Francesca Lavagnini. 5, quella di archivio Mario, infine chiude questo meraviglioso campo di campo. Siamo in attesa che parta il silenzio. Sotto campo di seconda classe, Manni Giovanni è pronto per suonare il silenzio. E desidero che tutti gli atleti, tutti gli armi, tutti i dirigenti, tutti i capi borgata siano partecipi a questo momento. dietro le bandierine, bene, ci siamo, siamo quasi pronti. Ecco, questo è il momento più importante di tutta la giornata. Suona il silenzio, il sottocampo di seconda classe, Manni Giovanni. Il sottocampo di seconda classe, Manni Giovanni. Grazie. Grazie, grazie, grazie di questo meraviglioso silenzio, ben suonato e ben suonato, ben ascoltato. Ora chiediamo il suono delle sirene. La mia natura ha accettato la corona e il sole, che le sirene ne ha portato suono. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 il filo da torcere a tutti quanti, questo è il momento per spendere il giusto ed arrivare alla boa dei 1000 ancora carichi per raggiungere i 1500 e segnare il passo dei vincitori. Sta facendo una buona andatura il canaletto. Anche il Fossamastra è un hightseider che si sta avvicinando insieme alle barche dei vincitori. Oddio, oddio, non è più con la pietra, però sono qui indietro, però guarda che c'è due strati. Grande girata del canaletto, una gara di grande grinta, vediamo quello che succede. Dopo i 1000 metri c'è veramente una grande risorsa da tirar fuori, arrivare alla boa dei 1500 e poi concretizzare la discesa della vittoria. Una gara importante, una gara dove ci si deve mettere il fegato per vincere e dove si deve mettere a competizione la dura realtà. Ci sono anche le altre imbarcazioni a fianco che potrebbero in qualsiasi momento sopraggiungere e portarti via quello che hai speso fino a oggi. Però l'alzata per la boa dei 1500 è veramente grande. Però vediamo ancora Canaletto, Fezzano, Cadimare, Mugiano e anche il Fossamastra si sta comportando veramente degnamente su questa gara. Una gara veramente eclatante perché la si aspettava e sapevamo benissimo che le forze in campo erano distribuite molto bene. Ma in questo momento vince l'orgoglio, vince chi vuole vincere e chi ha la voglia di arrivare in fondo sacrificando tutto e per tutto. Il silenzio regna, silenzio regna, forse sono solo io a parlare perché sto raccontando quello che realmente accade e piano piano vediamo crescere un po' gli entusiasmi delle borgate che cercano di far arrivare ai propri armi la propria solidarietà ma sono lontani. Vediamo chi arriva alla boa dei 1500. Seguiamo. Ormai siamo vicini. Ammiriamo tutti quanti questo giro di boa che può essere davvero determinante per la vittoria finale. Di più. Quante canzoni nel meglio? Eh, anche due. Vediamo quando gira. E' quello che gira. Il canaletto gira in questo momento gira il canaletto e il canaletto si sta orientando verso la boa dei 2000. acclamano i sostenitori vedono dal megaschermo quello che è stato che ha girato molto bene dice Bordino perché lui guardava nello schermo noi guardavamo in linea con il nostro operatore abbiamo visto quello che è accaduto e sta concludendosi così dopo il giro dei 1500 la gara dei forti la gara dei più forti vogatori del litorale che stanno scendendo e stanno venendo verso l'ultima boa per scrivere così il libro nel libro e nell'albo d'oro il proprio nome questo è il vero entusiasmo del Paglio del Golfo è la grande rincorsa siamo quasi in fondo siamo quasi in fondo questo è il momento decisivo dove deve entrare in azione l'orgoglio la forza, il coraggio sicuramente una più vicina all'altra la nostra maschera è già staccata però queste quattro veramente stanno dando il meglio di te e sono Cadareco Cadimare Pesano e Bugiano è uno sprint finale è uno sprint finale fantastico guarda un po' il Mugiano guarda un po' il Mugiano come è rinvenuto ed ecco il canaletto che entra in boa in questo momento e finisce così 11 pagli alla valle questo è l'uomo del Paglio l'uomo del grande da grande ricordo questo una grande vittoria una grande acclamazione una grande una grande bella vista di grandi uomini che hanno saputo soffrire e hanno vinto in tutto il percorso del Paglio sono giunti tutti hanno dato tutto il massimo grazie ragazzi per quello che avete fatto però si acclama sempre chi ha le marche che rientrano sono uno spettacolo dopo lo spettacolo del Paglio ed ecco il canaletto che si acclama e vince questo 84esimo Paglio del Golfo una grande vittoria una grande una grande gioia per tutti e specialmente per la valle che è arrivato a 11 pagli vinti una grande sofferenza un uomo che si alza la mattina alle 5 per arrivare al lavoro della mitricoltura e oggi sono arrivati alla fine a soddisfare quello che realmente si sono prefissi ha abbandonato la barca per acclamare per vivere insieme il momento più importante della gioia della vittoria di un Paglio 17 anni che 17 pagli 11 anni che non arrivava una gioia immensa una gioia che realmente riempie tutti gli animi siamo qui insieme a Manfredini Manfredini a caldo ebbè è uno spettacolo bellissimo una vittoria strepitosa sono fortissimi sono fortissimi hanno fatto un bellissimo Paglio l'hanno dominato tutte le Pre Paglio ed è comunque stata una gara fantastica tutta qua Maioli sei qua insieme a noi sappiamo che a bordo c'è un lavale che si alza alle 5 del mattino e che vive veramente una vita da lavoratore a te certo è dura lavorando è dura vogando è una vita dura la nostra ma stavolta ce l'abbiamo fatta e grazie a tutti dobbiamo dire che anche i mitricoltori rendono molto su questo campo perché ci sono molti ragazzi che sono a lavorare insieme a noi sì sì scusate sto guardando che non sabottino la barca ma sono sotto controllo sto guardando io sto tenendo sotto pressione l'immagine perché proprio questo deve essere il momento decisivo di una vittoria felice e guadagnata sì certo ci sono ci sono poche parole l'emozione è forte e vi ringrazio tutti quanti grazie Maioli continuiamo a vivere insieme a chi è arrivato in fondo e a dare a fare il possibile è la storia dei tempi e così è assumerlo e la sua paolo 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 undici paolo undici paolo undici paolo sono undici grandi grandi sono bravo grazie paolo paolo sono undici dov'è mia moglie voglio mia moglie grande grazie prendi bene prendi bene conti sei stato grandissimo grande grazie grazie a tutti aspetta l'imbarcazione in questo momento viene insata viene insata fatemi passare ecco sale la barca la numero 6 va oltre i confini e va la pesa sale ed eccola ed ecco la barca gialla chi non vorrebbe toccare la barca in questo momento ma chi è ma chi è che non vorrebbe stare in questa grande festa laddove c'è il sacrificio umano per poter muovere questo legno così chiamato volgarmente ma uno Benedetti siamo arrivati in fondo, una grande vittoria te lo saresti aspettato che avrebbe confermato il suo vantaggio per tutte le prepaglie? C'era stato il brutto auspicio per il Canaletto dei Juniors dove erano strafavoriti, invece è arrivata forse la gioia più bella tanto attesa, a dieci anni c'era veramente il tifo delle grandi occasioni per una borgata storica e tradizionale come il Canaletto merito grande Paolo Lavalle che nonostante i suoi 42 anni è riuscito a infirare la undicesima perla di questa grandissima manifestazione che forse nessuno come lui la sente Sicuramente sarà un uomo del paglio, l'uomo più ricordato nei tempi perché una cosa così è impossibile da raggiungere Sicuramente è il personaggio più rappresentativo forse i tempi gli hanno consentito una carriera più lunga rispetto ai Casali, ai Mori e via discorrendo però certamente 11 palli soprattutto trovare gli stimoli e la voglia ma ce lo ricorderemo per tanto e per sempre in quanto le sue qualità sono molto alte Conclude così una grande carriera, dice così che si vuole ritirare passerà agli allenamenti e a organizzare il Numa è molto, ecco ritorna la barca sotto di noi e tutti continuano a toccare, a toccare per scaramanzia questa bellissima imbarcazione che ha dato a tutti i grandi chance e quello che è veramente l'amore per una borgata e ora mi sbaglio la barca ecco ancora una volta il solito uomo a gridare e esultare per la vittoria un uomo che ha militato in tante borgate ma ha saputo veramente vincere qua dobbiamo parlare di sport, dobbiamo parlare di capacità dobbiamo parlare di grinta, dobbiamo parlare di voler vincere e saper vincere eccolo, 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 eccolo l'uomo da ricordare nei tempi due figli, una moglie, un lavoro, 5 e mezzo del mattino tutti i giorni in mare e fra i mitiricultori e questo è veramente un lavoro di grande grinta e per essere così e per essere arrivato dov'è bisogna sacrificarsi e si è sacrificato molto, moltissimo le grida sono per Paolo, le grida sono per Paolo o per il Paglio ormai è una grande istituzione, è l'uomo del Paglio è l'uomo del Paglio, è lui che ha tenuto in alto veramente undici volte questo Paglio del Golfo lice per la grande festa, per la grande realizzazione mandano i baci a Gianni che è in barca vuoi che ti dico? Non ho più voce Armando, non so cosa dirti è il momento di dire quello che vuoi che siamo i più forti, sono contento per tutti per il Muma che è la prima volta che vince per Marco che è la prima volta che vince per Paolo che è arrivato a undici quindi ha superato la soglia fatidica dei dieci e per Alfonso Conte che si è levato a una grossissima soddisfazione e per Davide Spano che anche lui ha avuto una rivista sono contento per tutti, ringrazio tutti i tifosi siamo riusciti a far tonare il Paglio al Canaletto speriamo di tenerselo ancora per qualche anno grazie Dini, questa grande vittoria una che l'abbiamo sentito come accorato e come si è dedicato a darci queste delucidazioni e queste, come si dice, calde, calde gioie Gianni! Eh dai! Gianni è in lacrime Gianni è in lacrime è una cosa che lascia il cuore sospeso e veramente può dire di aver ritrovato, ritornato ha riportato al Canaletto la gioia è la grande voglia di essere borgattari un Canaletto che aveva sofferto da tempo guardiamo quante imbarcazioni ci sono qua intorno quante sono state le grandi avventure beh, oggi è veramente una grande giornata per il Canaletto